Per iscriverti al canale schiaccia su iscriviti e sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti delle notizie. Era appena stato trovare la moglie ricoverata in ospedale quando l'uscita è stato travolto ed ucciso da un'auto. Il dramma si è consumato ieri lunedì 13 gennaio intorno alle 19.30 ad Ancona, proprio nei pressi dell'ospedale di Torrette. La vittima è Giuseppe Galdelli, un pensionato di 81 anni, originario di Fabriano e residente a Chiara Valle. L'anziano è stato investito da un uomo di 70 anni che era alla guida di una Opel Meriva. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto hanno tentato il possibile per salvare Giuseppe ma tutto è stato inutile. Dopo aver fatto un volo di oltre 10 metri era andato in arresto cardiaco e aveva perso conoscenza, morendo poi al pronto soccorso.